Basta parlare di tragica fatalità. È l'invito sempre più pressante dei sindacati di fronte allo stilicidio continuo di incidenti sul lavoro. Nel caso di quanto è successo alle acciaierie venete di Padova, la FIOM nazionale in più aggiunge che da tempo era stato richiesto, proprio per motivi di sicurezza, che non ci fosse promiscuità tra la movimentazione dei grandi contenitori che trasportano il metallo fuso e i lavoratori. Di fatto sono sempre più allarmanti i dati relativi agli incidenti e agli infortuni sul lavoro in Veneto, tanto che i sindacati incontreranno in serata il presidente della regione Luca Zaia per parlare di ciò che considerano una vera e propria emergenza sociale. Uno studio della CGL basato sui dati E-mail rivela che negli ultimi cinque anni nella nostra regione un lavoratore su cinque ha subito un incidente sul lavoro. Oltre 375.000 il totale degli incidenti denunciati, circa 75.000 l'anno, una media di 335 per ogni giornata di lavoro, con lesione di varia gravità e 560 morti. I settori più colpiti sono l'edilizia, il metallo meccanico e l'agricoltura. Il problema è particolarmente accentuato negli appalti e nelle esternalizzazioni, dove minori sono le tutele sul lavoro. La provincia con il maggior numero di incidenti è Verona, con quasi 80.000 infortune in cinque anni, più indietro a Vicenza, Padova e Treviso.